Siamo con il primo acquisto dell'Atletico Casalnuovo di dicembre, Carlo Minauda. Carlo, benvenuto a Casalnuovo, hai giocato nella prima parte di questa stagione alla Poteolana, adesso con quale spirito arrivi qui a Casalnuovo? Innanzitutto ringrazio la società di Pozzuoli che mi ha dato tanto e io ho dato tanto. Purtroppo si è chiuso il rapporto, ora ringrazio tutti gli amici che stanno là. Riguardo a Casalnuovo sono stato molto contento che mi hai chiamato alla società, sinceramente non mi ho fatto pregare due volte, sono venuto per fare bene e per dare tanto a questo Casalnuovo. Diciamo che io non sono un leader, sono un giocatore come tutti quanti, metto a disposizione della società, del mister e dei compagni. Per me il leader, ripeto, è Marco che è un giocatore molto d'esperienza, un grande mio amico e spero di dargli una mano a lui a fare qualche gol. Secondo te quale può essere l'obiettivo da raggiungere a fine campionato? Io penso che la cosa più importante adesso è fare i sacrifici, il mister ho avuto già il piacere di conoscerlo, è un ottimo allenatore, poi saranno i sacrifici e poi saranno i risultati a vedere dove possiamo arrivare. Io spero più lontano possibile, mi auguro questo.